3 wins, 3 wins poi Brunner, quindi Trichler, Marti che non è Seth Marti, che vedremo poi in classe D e che abbiamo visto trionfare anche nel campeonato italiano poi con numero 500 è Baumgartner che dovevamo vedere anche nel campionato italiano nella categoria Camp Rose e poi invece non l'abbiamo visto in visto 46 e 66 per 3 wins Brunner oggi sta calmo perché è particolarmente lontano